Il problema è che la moto non è un semplice sport, non è solo uno svago, un mezzo di trasporto. La moto è tutto un mondo, la moto è una filosofia di vita, da gas ai sogni di libertà, di fuga, di avventura di ognuno. La moto è libertà, ma anche ribellione, ribellione a chi ti vuole fermo, incasellato, incolonnato, chiuso in uno spazio. È una leggenda dello sport, un campione con un record irraggiungibile di 15 titoli mondiali. Signore e signori, Giacomo Agostini. Ho cominciato a correre in salita a vent'anni e in effetti posso dire di avere bruciato le tappe. Un anno dopo correvo il mio primo GP e meno di due anni dopo ero sul podio della 500, insieme a Shin e Cecotto. Il bello è il piazzamento, il risultato. La coppa? No. La coppa ti dà anche noia, la devi pulire. Il risultato ce l'hai tu, dentro. E la medaglia di campione del mondo io ce l'ho sul petto. Campione del mondo nel 1981, nella classe 500. Signore e signori, Marco Lucchinelli. Sono salito in moto che ero poco più di un bambino, su una di quelle due tempi tedesche da cross che allora erano il massimo. Ce l'aveva mio padre, Giordano, su e giù per i bricchi, stradine, campi. Così mi sono appassionato da morire alle moto e correre è stata una conseguenza. A 17 anni ho vinto il titolo mondiale, il pilota più giovane della storia. I record sono fatti per essere battuti. Anche il mio. Però, se mi resta, non mi dispiace di sicuro. Due volte campione del mondo in 125 e una in 250 rimane il più giovane e ridato della storia del moto mondiale. Signore e signori, Loris Capirossi. Inconvenienti del mestiere cascano queste pagine di storia. Allora, questa sera ci guiderà ad altissima velocità, in questa adrenalina che ha serata, il General Manager di Prometheon Tire Group, Roberto Righi. Voi siete diventati tutti campioni del mondo, avete vinto tantissimo, qualche sconfitta, ma mi incuriosisce sapere da dove è nata la vostra passione, com'è cominciato tutto. Incominciamo da te, Giacomo. Buonasera. Come è nata? È nata, non lo so. Non lo so perché, quando ero ancora piccolo piccolo, io sognavo di andare in moto, che fra l'altro i miei genitori non avevano niente a che vedere con le due ruote, quindi erano meravigliati di questa mia passione. Anzi, mio padre diceva, ma no, perché io poi, appena sono cresciuto, dico, ma io voglio correre in moto. E mio padre mi disse, ma tu sai che ci sono dei grandi campioni, ti umilieranno, cosa fanno? No, io voglio correre in moto, ma lui ha sempre negato, non ha mai voluto aiutarmi. Ma la fortuna è stata che l'ho accompagnato un giorno da un notaio, un suo amico, e così mi ha visto triste, mi ha chiesto il perché. Mi ha detto, ma io vorrei correre in moto, dico, mio padre non vuole. Allora io si è rivolto a mio padre, dice, ma no, lo sport fa bene per i ragazzi, insomma, è una cosa bella, una cosa... E l'ha convinto, l'ha convinto e lui ha firmato questa autorizzazione, che poi alla fine, prima di andare via, si è reso conto che... Cioè, ci siamo resi conto che lui aveva capito che vorrei correre in bicicletta e non in motocicletta. Comunque la cosa era fatta anche perché in bicicletta io avevo provato, è una fatica della madonna, quindi è meglio mettere un motorino sotto, è più facile. Insomma, quindi è andata... Ma quanti anni aveva il notaio? Perché magari non l'aveva sentito bene. Il notaio no, avrà avuto, tanto tempo è passato, avrà avuto, non so, 50 anni, 55 anni. Quindi ci sentiva bene, ma aveva frainteso motociclette. Sì, non pensava alla moto, il ciclismo era in auge, e quindi ha pensato al ciclismo e non al moto ciclismo. La prima gara? Quando è stata? La prima gara è stata... Avanti Cristo. Eh? Avanti Cristo. Vediamo cosa dici. Io ho un po' di gelosia, perché sa che sono più giovane di lui, allora capito? La prima gara è stata... Anzi, no, prima della prima gara io non avevo poi la moto, e mio padre mi ricordo che mi ha fatto un regalo di una bellissima macchina quando avevo compiuto i 18 anni, una Giulietta Sprendi, come madonna mia, vai, mi fa un regalo così grande, dico all'epoca mi sembrava veramente un sogno. E poi ho capito, lui mi ha regalato la macchina, perché io dimenticassi le due ruote. Ma lì non c'è stato niente da fare, la moto non me la voleva comprare, e allora ho conosciuto un rappresentante della moto Morini a Bergamo, il quale mi diceva, beh, senti, ti aiuto io, me la pagherai a rate. E così mi ha comprato questa moto, ho comprato un Morini Settebello, che fratto stasera ce l'ho nella macchina, proprio qui vicino. E così mi ha detto, beh, poi me lo pagherai, e siamo andati d'accordo che l'avrei pagato, credo all'epoca, non so, 5 euro o 10 euro al mese, insomma una cosa così. La prima gara sono arrivato il secondo, sono partito con il mio meccanico, e poi era il panettiere del paese, quindi non sapevo nemmeno cambiare una candela, però, insomma, dicevo che era il mio meccanico e dovevo anche io far bella figura. Poi siamo partiti con uno zaino pieno di cotolette, salame, panini, e addirittura mi ricordo che avevo preso anche le bustine di idrolitina per fare l'acqua minerale, e siamo stati in giro tre giorni mangiando pane, salame e cotolette. Però su 40 sono arrivato il secondo, con la mia moto privata, quindi sono stato avanti a tante moto ufficiali, e da lì dico, beh, allora mio padre non ha tutte le ragioni a dire che io non sarei andato, non sarei riuscito, e da lì mi sono fatto coraggio, e mi dico, beh, allora, se la prima gara con la mia moto privata arrivo secondo, di fatti poi lì ho conosciuto i meccanici della moto Morini, che mi hanno chiesto da dove ero, cosa facevo, eccetera, eccetera, e mi hanno detto, se hai ancora, all'epoca credo 20 o 30 mila lire, te la mettiamo a posto, perché avevo i cerchi in acciaio, avevo i freni normali, addirittura ho corso col bauletto dei feri, perché pensavo di fermarmi, a cambiare, non so, insomma era la prima gara, quindi anche per me non avevo esperienza, non sapevo, e quindi mi hanno messo a posto la moto, e da lì ho vinto subito, ho vinto subito la Bologna San Luca, e la Bologna San Luca, c'era come il dottor Morini, che mi ha visto, ha chiesto, chi è quel Cino lì, e ho detto, ma uno di Bergamo, eccetera, eccetera, allora mi chiamo e dice, senti, vuoi correre con una moto mia ufficiale, e quasi vado per terra, dell'emozione, e poi dico, ti do anche, i soldi, insomma il valore di 100 euro, 100 euro al mese, dico, mi serve per finire di pagare le rate della moto, e da lì, e da lì ho iniziato, addirittura il primo anno, ho vinto due titoli italiani, in montagna e circuito, e poi da lì insomma la mia carriera è partita. Marco, tu invece, prego, come sei partito? No, guardavo che non si sono addormentati, Mino, fai dormire, ma no, voglio sapere, voglio sapere, tutto. Io come ho iniziato, ho iniziato perché mi faceva paura il lavorare, alla base di tutto. E' un buon punto di partenza. Quindi, mio padre aveva un'impresa idile con bulldozer e ruspe, e ci ho provato, però era una fatica della madonna, la mattina a fare l'anfta, ciucciarla, cioè, non era cosa. Era un dramma. e allora a un certo punto ci sono accorti che era meglio firmarmi, fare la licenza, a vent'anni però, io avrei corso presto, pur di non lavorare, però loro a vent'anni mi hanno firmato l'autorizzazione. E la prima gara è stata nel 74 in salita? Forse in salita, Saline Volterra ultimo, ultimo. Infatti incontro ancora, a volte qualcuno, un altro giorno, mio figlio che a 13 anni era alla partita di calcio, arriva uno e gli ha detto, io sono stato davanti a tuo babbo. E' venuto a casa e mi ha detto, babbo, a chi è che ti è stato davanti? Cioè, tu sì, ma mentre andavamo a fare la pipì, mi è stato davanti. Cioè, mi è stato davanti, ma se ho fatto ventottesimo e te hai fatto ventesimo, non vuol dire nemmeno che sei stato davanti. Ho capito? Giustamente. Tu, Loris, beh, tu hai incominciato, eri già in una generazione dove si incominciava un po' pochettino prima, Io ho cominciato a quattro anni, andare in moto. All'epoca, quando io ero piccolo, non esistevano ancora le mini moto come attualmente ci sono. Quindi mio babbo mi ha costruito una moto piccolina, ricavata da un benellino e via. E di lì è cominciata la mia carriera. La mia prima gara l'ho fatta nell'87, a 14 anni. E anche io non sono stato bravo, bravissimo. Nella prima gara. La prima gara, il ricordo più bello che ho della prima gara è stato, a Maggione, in una pista in Umbria. All'epoca la pista era diversa, il box era da un'altra parte. Ho fatto curva 1 e curva 2 sono caduto. Appena entrato in pista. Ho detto, mica, in queste moto sono... Perché io ho fatto da quattro anni a 14 solo motocross. E ho cominciato con la velocità. E di lì, piano piano. Piano piano. E qual è stato il momento in cui avete capito che la passione poteva diventare, perché il talento c'era, perché incominciavano ad esserci delle opportunità, qualche cosa di più e... voglio dire un lavoro, ma qualche cosa in cui poter aspirare a qualche cosa. Dici la passione? Quando avete capito, quando hai capito che davvero ci sarebbe stata la possibilità di diventare, non dico un campione del mondo 15 volte, ma... Ma il campione del mondo no, però dico, la prima gara, arrivo secondo, con la mia moto, dico, ma probabilmente... Non sono scarso. Non dovrei andare male. E quindi, quindi, da lì, da lì, a parte la mia, cioè io sono andato con questo grande amore per le due ruote, quindi, per me non c'era niente, non mi fermava nessuno, io volevo a tutti i costi, e poi appunto ho visto subito i risultati, insomma, già il primo campionato ho fatto con, appunto, con la Morini, e ho vinto due titoli italiani in un anno, quindi, perché poi hanno detto 15 mondiali, ma io sendo italiano ci tengo a dire anche che ho anche 18 italiani, insomma. Uno l'hai rubato a me, uno del 76, finiti a 42 pari punti, l'ha andata a vinta lui. Ma per uno punto... Ma basta dare la mancetta. Ah, non mi hanno fatto correre, avevo una piccola rocca, mi sono presentato. Basta dare la mancetta, ti fanno andare avanti. Avevo la clavicola rocca, mi sono presentato, ho fatto le flessioni, ho alzato la macchina da scrivere, non mi hanno fatto partire, ed è per quello che tu sei arrivato a 42 pari a me, se no te l'avevo stoppinato bene. insomma bisogna essere anche un po' fortunati nella vita, no? Sì, sì, ma io sono avuto sfiga, ho incontrato te, perché l'ultima gara che hai vinto, sei arrivato davanti a me è sempre meglio fortunato che sfigato. L'ultima gara vinta da lui è arrivato davanti a me al Nürburgring. Io sono stato fortunato che ho cominciato a che ho già smesso di due, quindi io non c'entro niente. Ma anche lì c'è un perché ha vinto al Nürburgring. Aveva due moto con due modelli diversi, una era una Suzuki e ora un'MV, e alla sera dopo le prove avrei dovuto dire quale moto usava per il giorno dopo. Invece lui ha aspettato la mattina che poteva, era come Valentino quando aveva potere. Quindi ha guardato fuori e ha detto piove, piglio la quattro tempi, e infatti mi ha fregato. E questa è furbizia, oh! Questa è furbizia, eh Giacomo? È potere, aveva il potere. Dai, questa ormai è in prescrizione, sono passati. Per me invece è sempre stato un gioco, dalla mia prima gara all'ultima mia gara del 2011, perché secondo me questo è uno sport. Per noi siamo innanzitutto persone fortunate, perché nella vita fai quello che ami di più, quindi sei una persona fortunata. E io mi sono sempre divertito. Ancora oggi, che sono 12 o 13 anni che ho smesso, tutte le volte che salgo in moto mi diverto. È qualcosa di fantastico. Io dico sempre che noi siamo piloti, rimaniamo piloti tutta la vita. Non andiamo più in cassa adesso, però ci divertiamo buono. Non ho capito l'ultima parola. Eh, o anche te. E tu Marco, scusa, io ho in mente che c'è stato un momento, tu sapevi che andai forte fin dall'inizio, no? Perché... Non ci credeva nessuno, però io... Beh, però tu sei arrivato al Mondiale. Lo dicevo. Non mi veniva a vedere nessuno della mia famiglia, perché dicevano che tanto mi sarei fatto male, basta, che non valevo niente, che ci vuole la testa. Tutti, ognuno diceva la sua. Però quando ho vinto il Mondiale sono venuti tutti. Ah, a prendersi i meriti. Tu hai incominciato nel 74, ma l'abbia sentito prima, due anni dopo eri già nel Mondiale. Ho fatto 74 corse in salita, e avevo fatto due risultati. 75, ho fatto le 24 ore con la Laverda, dove almeno imparavo qualche circuito, Spa-Franco-Shamp, per dire. E poi ho fatto subito... Sono passato nei senior, e ho fatto il 76, e arrivarono due moto, una la dietro a Cereghini, e una al nostro team, io, Toracca, Armando e Gallina, solo che eravamo in tre con una moto. Abbiamo fatto assorteggio, la prima gara mi è toccata a me, a Misano. Solo che avevo fatto il miglior tempo, ma hanno sospeso la gara per neve, quella volta che nevicò a Marzo, a Misano. E la gara dopo, a Modena, nel circuito cittadino, io avevo il bicilindro ad aria, lui l'AMV, e mi ha fregato anche lì, perché mi scelto il freno di dietro. Ma proprio fregato. Lo fregavo sempre, capito? Lo fregavo. No, ma è invecchiato, se diventa più bravo, adesso lo perdono. Mi vuol bene adesso, adesso l'ha dimenticato, però lo fregavo sempre. Comunque, tutti e tre, avete capito molto presto, che avreste fatto strada, perché tu sei arrivato secondo nella prima gara, due anni dopo aver incominciato a correre, e tu hai fatto, credo, terzo o quarto nel Mondiale 500. L'anno che ho cominciato a correre, ho fatto la prima gara, il secondo tempo, alle Manche. Poi io avevo un problema delle clavicole, oppure dei gessi, hai visto? Si grippavano, e purtroppo appena cadevo, mi facevo male. E tu, Loris, anche alla fine, cioè tu hai incominciato a correre nell'87, hai detto, ma tre anni dopo addirittura vinci il Mondiale, quindi insomma, diciamo che malissimo... È andata, è andata a vincere. Malissimo non è andata. A me piacerebbe capire come era la sensazione a correre con delle tute, ovviamente all'epoca non lo si sapeva, che poi sarebbero diventate come sono diventate oggi, ma con quei caschi, con quelle scarsissime protezioni, con moto che, non è che frenassero tantissimo, quando ti ho chiesto con quante dita si frenava all'epoca, hai detto con quattro, perché sennò non ti fermavi. Com'era? C'era la sensazione, il fatto che si rischiasse così tanto di più? A parte che la passione non ti fa pensare a tutto questo, nel senso che poi c'erano queste, cioè la tuta era così, il casco era quello, quindi non c'era entrato, quindi per forza dovevi usare quella, quindi non pensavi alla tuta come c'è oggi, la mia tuta all'inizio pesava un chilo e cento grammi, oggi pesa otto, nove chili, quindi quando cadevi ti alzavi nudo, nel senso che si spriciolava. Ed era meglio non cadere? Non potevi, infatti ai nostri tempi, soprattutto ai miei, era proibito cadere, perché cadere voleva dire brutte cose. Comunque è più assurdo, ma pensavi di essere coperto, perché per strada non avevi niente, i caschi per strada non aveva nessuno, non aveva chi correva, i giubbotti erano fatti con la logica opposta della logica, qui erano come le maniche a vento, cioè quando andavi tutti gonfiavi, le scarpe non era come adesso che hai le scarpe da moto, usavano scarpe da pugile, sulle strisce bianche scomavi in ora, non partivi, insomma, però pensavi di essere sicuro, e anche i genitori, io ricordo quando mia madre disse, vabbè ma firmagli, che almeno là è coperto, pensavano che fossi sicuro là. Perché con il casco, almeno sulla testa era già... Almeno il casco l'avevi, la tuta l'avevi. Assolutamente. Che poi quando, quando mi hanno dato il casco, il casco integrale, che naturalmente era, era un'evoluzione, sembrava vederlo più sicuro, quindi era effettivamente più sicuro. Ma io l'ho provato in una pista, l'ho provato in una pista in Belgio, a Franco-Cham, dove già ai miei tempi si facevano i 210 di media, perché era una pista molto lunga, molto veloce. E quando ho provato questo casco, purtroppo dopo qualche giro l'ho tolto, perché mi portava in giro la testa, in quanto la velocità era alta, e non abituato ad usare un casco più pesante di quello che normalmente usavo, quindi mi dava molto fastidio. E poi sono ritornato, perché ho visto che effettivamente dovevamo pensare anche alla sicurezza. L'ho provato in una pista meno veloce, quindi da lì poi mi sono abituato, perché poi le abitudini sono molto importanti, quindi mi sono abituato ad usare il casco, ed fortunatamente almeno quello riparava un po' di più, insomma. Assolutamente. Anche le moto sono cambiate in maniera incredibile, perché lo sentivamo prima, freni a tamburo, pneumatici, che insomma tenevano, per modo di dire, a partire da quando? Forse già nei primi anni 70 hanno incominciato ad arrivare delle evoluzioni importanti sui freni, sulle gomme. Sì, sono arrivato il primo freno a disco, che quando l'ho provato, mi ricordo l'ho provato a Modena, e quando andavo a frenare, per i primi 50 metri non frenava, quindi tu immagina la sensazione, quando tu freni, e poi la moto non frena, ti viene fuori il cuore, quindi poi però c'è stato un grande lavoro, hanno fatto delle cose oggi, che sono quasi impensabili ai miei tempi, avere dei freni che hanno oggi, o la potenza che hanno oggi, o insomma le gomme di oggi, ma giustamente c'è il progresso, il mondo va avanti, quindi il progresso c'è, hanno fatto grandi grandi cose, ma soprattutto sulla sicurezza, sicurezza sia negli indumenti, che nelle piste, oggi è spazio di fuga, quindi ti puoi permettere anche di fare una scivolata e cadere, ai nostri tempi cadevi, andavi contro un garlaio, contro un muro, io mi ricordo a Franco, in Belgio in prova, è una cosa molto triste, però insomma ce l'ho sempre in mente, in prova arrivo a curve da 180 all'ora, balle di palli, rallento le bandiere rosse eccetera, e da una parte c'era il corpo, e dall'altra la testa di un pilota, quindi ci siamo fermati un'ora, dopo un'ora ci hanno dato la bandiera di ripartire di nuovo, quindi da tonde era così, se volevi fare questo sport. Sì, era così, e il meglio era quello lì, non è perché potevi nemmeno, cioè le balle di paglia ti davano idea di sicurezza, prima non c'erano, dopo ce l'hanno messo, cazzo vi abbiamo già aiutato. Certo, certo. Allora, ci andate ancora tutti in moto, ma tu mi dicevi hai una MotoGP di due anni fa, come sono, chiaramente lontanissime, ma quanto sono belle, difficili, performanti le MotoGP di oggi? Di questo ne abbiamo parlato un sacco di volte, io penso, magari loro non sono d'accordo con me, però io penso che ogni epoca ha i propri campioni, chiaramente. Io penso che se Giacomo, gli togliamo dalla schiena 40 anni, e lo mettiamo su una MotoGP attuale, vince, perché ha il talento. Se lui, se Marco lo mettiamo su una MotoGP attuale, vince. Però io penso anche, se mettiamo un Marques su una 500, magari ci mette due gare, perché a 500 sono abbastanza complicati, difficili. Però vince, vince. Che stiamo parlando comunque di top rider. Adesso, diciamo che la MotoGP ha, diciamo, tra virgolette, semplificato le moto, sono più facili, e quindi ci sono tanti piloti che riescono ad essere veloci, però la differenza sono sempre quei pochi che la fanno. Io ho smesso di correre un po' di anni fa e sono sempre andato in moto. E adesso ogni tanto vado a girare con una MotoGP attuale. E vi assicuro che, sì, non sono facili, andar forte è difficilissimo. Ma la moto, senti quello che succede, l'aerodinamica ha fatto dei passi da giganti in questi ultimi anni. Però io che comunque mi sto allenando, cerco di essere abbastanza in forma, ho un'autonomia di 3-4 giri. E basta. Perché hanno tanta potenza, ti stacco con le braccia in accelerazione, in frenata, hanno una potenza incredibile con l'aerodinamica. E le moto però sono fighissime. Adesso con il mio lavoro ogni tanto nei test, proprio abbiamo finito i test a Portimao pochi giorni fa, e durante i test ho la possibilità di andare anche lungo la pista per vedere cosa succede, come guidano. Io da ex pilota dico che fanno paura, vanno veramente, veramente forti. Io tutte le volte, tanto di cappello, ho un rispetto incredibile per tutti i pilota, dal primo all'ultimo, perché qui, adesso guardiamo la griglia di MotoGP, dal primo all'ultimo c'è un secondo, e niente. Però è chiaro che poi, quando si fa sul serio, sono sempre quei 3-4 che fanno, che sono più bravi. Ben credo si possa veramente dire alla fine che si cambiano le epoche, le generazioni. Però c'è da portare al limite un mezzo. Esatto. Quello dei miei tempi andava portato al limite e quelli di adesso uguale. Ognuno, penso, le proprie difficoltà. Adesso si allenano molto di più, ma ai tempi che si allenava ce n'era uno, lui, perché tutti gli altri andavamo in giro a bere, fumare, ma non perché eravamo sbandati. Perché era così? Si era figli di meccanici o eri un meccanico? La sigaretta l'avevano tutti, gli attori, chiunque, guarda che fumavi anche te, io ero il primo a darci le... Però sai cos'è oggi? Non ho mai preso l'esempio da Mino, non ho mai voluto copiare lui. Ad esempio, siamo andati al Turistrofi, dopo tre giri, lo conosce come casa sua, cioè lì veramente... Fa paura. ...in una pista normale gli do il giro. Lasciami un po' esagerare. Fabbo, lasciami stare. Allora andiamo al Turistrofi e c'è il Ballad Bridge e tutti questi qua e c'è il punto dove avevi, come si chiama la mattina quella che ti salutava là? Là? La Dama Bianca. La Dama Bianca. che provavano alle 4 o le 5 di mattina. Lei usciva di casa e gli tirava su la gonna. E io alla prima domanda gli ho detto ma non ti sei fermato? Ma io ero qua per lavorare Lucchinelli, mica per fare delle... Ma capito, lavorare, ma al pomeriggio... 10 minuti di mattina 10 minuti poi anche per mare. Arrivare la sera troviamo il tempo. Che cavolo. Ma non ha capito che c'era anche il dopogara. C'era anche il tempo dopo. Non c'era bisogno di fermarti al mattino alle 4.45. Comunque al turistoro qui va ancora... Credimi, io venivo da Rieca con un MV, mi spediscono alla moto, ci troviamo. La parte sopra dove c'è il museo di Dallop che è come una pista solo che c'è filo spinato, c'è di tutto. Chiaro. Praticamente io lì non riuscivo a stare dietro. Allora lui era davanti, io mi mettevo sotto, appena si girava facevo fin da essere rilassato. Andavo via così. Non ce la facevo di starci dietro, ma sai come mi giravano? A te non hai un'idea. Ti dava fastidio. Eh sì? No, io nel 2010 ho fatto un giro. Beh sai, devi conoscere, se la pista non la conosci e vai per terra lì. Io c'ero sull'anno scorso, nonostante hanno fatto, nonostante c'è un po' più sicurezza. Dove? Da dove? Poca di più, ma qualche cosina. Coprono le piante perché hanno paura che le rompi? Che le rovinano per la volta. Le vetrate, ci mettono davanti la Roma, ma mica per te, per loro, che se la giustano. E comunque sono morti in cinque anche la nostra. Sì, sì. La pista è tremenda. Ah ma fai 35 secondi a più di 300 all'ora. Dove lo fai? Manco in pista. No, ma io quando ho fatto il giro dietro a McGuinness, che lui è uno specialista attuale nel TT, quindi mi ha detto allora se non ti preoccupare, vieni tutti a me, fai quello che faccio io. Io ancora, correvo ancora, a cazzo mi fa questo qua? Ciao, chi lo vedeva? Sì. A manetta dappertutto, è pauroso, veramente pauroso. Io dovevo fare un salto a Ballard Bridge, riprenderlo per la televisione, ho chiamato uno, gli ho detto, vieni qua, vestiti da look in elio. No, ha fatto lui il salto. E io ero con la birra al bar. Vado a dire, la birra al bar. Vabbè, diciamo che una cosa certa è che cambiano le epoche, ma chi continua a fare la differenza, per fortuna, sono ancora gli uomini, il manico, i piloti. Però oggi, lo stavo dicendo perché oggi, però c'è troppa, troppa, troppa elettronica, tecnologia, eccetera, e quindi se tu togli tutto questo, non noi, perché soprattutto io, che ormai ho una certa età, però anche i ragazzi che corrono oggi non riuscirebbero a ridarle. Sarebbero sicuramente in difficoltà. Quindi, cioè, hanno tolto, hanno tolto tanto. Il progresso va avanti e probabilmente sarà giusto così. Però, se tu togli tante cose, come ad esempio adesso, stanno un po' stravolgendo la moto, nel senso, è l'alettone di qua, l'abbassatore, l'alzatore. La moto è la moto, dobbiamo tenere la motocicletta, non dobbiamo, perché non è un aereo, fare le ali, fare le cose. Però sono fighe, dai, sono fighe. Sì, però cambi, cioè non è più la moto. Eh, la tecnologia, adesso è chiaro, come prima parlavamo dei 300 cavalli di una MotoGP di un motore 1000 aspirato, quindi sono potenze spaventose. È normale che se tu non hai un aiuto dell'elettronica che gestisse, questi motori sono inguidabili, anche secondo me. Vedi che ti tolgono la tua bravura, però. Assolutamente, se non hai l'aiuto non riesci. No, no, però credimi, se te sali su una moto di queste qui, andai forte, è dura, non è che dici moto su chiunque, tutta l'elettronica. Anche se non hai l'elettronica andare forte devi rimboccare. Assolutamente, io ero il numero uno, io mi ricordo, io quando correvo nel 1989, che è stato il mio primo anno di campionato europeo, e correvo nel team Mabì Aldromandi Brigaglia, con un ragazzo che c'è qui, un giovane talento, che c'è qui, insieme a noi, Gramigni, e noi all'epoca avevamo un premio, il premio più importante della squadra si chiamava il premio Alicondor, che era praticamente un sasso con un condor sopra, e l'ho vinto io. Cosa significava questo premio? Chi volava di più? Io volavo sempre, col tuo tempi, acceleri, high side, e cielo, io sono uno dei volatori più, per quello che ha aiutato. Il cambio di categoria, una volta, il cambio di categoria dalla 2,5, 3,5 alla 500, era un casino, faceva selezione, per dire uno talento come lavado, poi ci è andato. Io ti dico, guarda, io ho provato una delle vostre moto, dell'epoca tua. A me viene male adesso quando la provo, che provo le buone, quando provo con la luna mia. Però tanto, se va avanti questa tecnologia, questo progresso, tra un po' di anni non avremo più bisogno del pilota, andrà da su. No, dai Giacomo, no, dai, si vuole il pilota di dire gas. Guarda che in macchina, tu vai a vedere in macchina, poi tu guarda la Formula 1 e poi capirei che se seguiamo quella strada, la moto è abbastanza diversa. Ti danno la potenza, te la tolgono, ti tolgo questo, ti cambia le gomme, non te lo fa a cambiare, ti danno più l'altro, cioè, ti comandano, o sei tu il pilota o sono gli ingegneri seduti dietro gli sgabelli a comandare. Pilota resta fondamentale, dai. No, ma... Sì, sì, ma voglio dire, se Giacomo fosse nato nell'80, sarebbe felicissimo di aver guidato queste moto qui, sarebbe ancora qui a Vincere Mondiali, no? C'è normale, devi seguire, non c'è dubbio su quello, che saremo contenti, anzi, mi toglierebbe dei problemi che una volta c'avevi il cambio di marcia, quando si alzava, adesso ormai non si alzano più, quando sono programmate per bene. Sì, sì, sì. Io, ad esempio, quando... Per me l'elettronica potrebbe anche non esserci, perché io non la uso nel senso, bisogna esserci abituati a fare quel... Cioè, avere la certezza di aprire il gas e di fidarti, io non ce l'ho. Io lo do ancora come ai miei tempi. Però anche con le moto attuali, anche con le moto attuali, se vuoi lanciare, la lanci, non è che non la lanci, non è che dici l'elettronica esco da una cura, faccio on-off, se fai on-off te la lanci anche queste qua, non è che l'elettronica ti aiuta, ti dai una mano, però comunque sono... Io dico sempre che bisogna dargli del lei sempre le moto. Questa conversazione comunque dimostra quanto... Le tre epoche è diversa. Quanto si può essere... No, ma perché amiamo profondamente le moto. Noi le moto le amiamo e le abbiamo sempre amate. Il Tourist Trophy per me è la gara più difficile, più importante al mondo, nel senso che è purtroppo anche la più pericolosa, perché ad oggi credo che siamo morti duecentosessanta, duecentosessantacinque piloti. Però guidare il Tourist Trophy ti dà un'emozione incredibile, perché appunto tutto l'ambiente, la pista, il tracciato, le curve, la montagna, la discesa, eccetera. Penso che in un giro puoi incontrare le quattro stagioni. Prima o meno è stato ottuno, inverno, pioggia, neve, grandine, sole, quindi... E nel 67 c'era questa gara tra me e il VT era passato alla Honda e Elwood aveva fra l'altro circa quattro anni di esperienze più di meno al Tourist Trophy. Al Tourist Trophy per poterlo vincere devi saperlo a memoria, diversamente non riuscire mai a vincerlo. Lui aveva una moto un po' più potente, io avevo una moto invece più maneggevole, quindi lì c'era... Allora avevo pensato in partenza con i serbatoi pieni di benzina, un serbatoio supplementare per un po' di olio che poi aprivo a metà gara a metà dopo tre giri perché la gara era a 360 chilometri, quindi aprivo il rubinetto per dare olio al motore e quindi ho pensato che la mia moto era più guidabile quindi in partenza la moto pesante benzina, olio e tutto quel che ci andava dietro dico devo partire al massimo, dare subito 100% di fatti e questa è stata la mia tattica e sono andato in testa poi lui dopo qualche giro mi aveva preso qualche secondo poi io glielo ridavo insomma è stata una grande lotta anche perché lottare con Heilwood al Touristrophy lui era un pilota che vinceva la 125 vinceva la 250 vinceva la 350 e vinceva la 500 quindi veramente battere Heilwood al Touristrophy era veramente quasi impossibile ero in testa ero in testa e purtroppo l'ultimo giro l'ultimo giro mi si è rotta la catena sognavo già la vittoria di vincere il Touristrophy davanti a un grande campione come Heilwood per me era veramente toccare toccare il cielo e purtroppo mi si è rotta la catena ho preso la mia catena poi ero nella discesa per arrivare appunto al traguardo mi sono mezzo la catena a spalle sono arrivato ai box e naturalmente due lacrime sono scese perché dico perdere una gara così quando ero in testa veramente mi ha toccato il cuore Heilwood è venuto incontro mi ha abbracciato metto tu oggi sei il vincitore io dico sì però tu oggi vai su primo gradino però grande signore la sera alla festa che lui ha organizzato mi ha voluto con lui eccetera quindi è stata è stata una giornata stupenda da una parte perché moralmente la mia gioia era quella di essere davanti un grande campione come Heilwood e dall'altro insomma la sconfitta la sconfitta la prima gara era appunto negli Stati Uniti quindi per me era la prima volta che andavo negli Stati Uniti prima volta che correvo con un motore due tempi prima volta che correvo su un bench una pista sopraelevata quindi e dove c'era anche un pilota che ti aveva anche un po' provocato era di fatti adesso arrivo era però insomma ero preparato eccetera e quando arrivo quando arrivo a Daytona per la gara scendo dall'aero c'è una macchina bianca su Agostini 13 times world champion era la General Motors che aveva dato una Chevrolet per usare e prendo questa macchina felice di avere questa bella macchina eccetera e il giorno dopo esce un articolo compro il giornale esce un articolo è un articolo scritto di Kenny Roberts che dice che lui dice che il mondo non è l'Europa ma il mondo è l'America dice lui io sono campione americano quindi sono io campione del mondo simpatico dicono io essendo ospiti non ho potuto replicare quindi sono stato zitto eccetera facciamo le prove non mi ero andato benissimo perché non conoscevo anche perché le prove erano un giro con un poco di benzina e ci ero abituato a studiare prima fare qualche giro per poter poi dare il giro il giro il giro insomma il giro giusto eccetera e non so avevo il quarto o quinto tempo però insomma in gara in gara ero in testa sono subito andato in testa addirittura il secondo giro che avevo fatto già un tempo un tempo con il serbatoio pieno di benzina eccetera comunque però purtroppo a metà gara non ce la facevo più mi stavo fermando perché io normalmente non bevevo niente quindi una giornata caldissima un caldo terribile ero disidratato mi ricordo andavo a cercare con la lingua il sudore per bagnarmi le labbra e ho detto mi fermo poi a un certo punto durante questo piccolo pensiero dico ma pensa quanta gente è venuta dall'Europa a vedermi dalla Francia un aereo e charter dall'Inghilterra dall'Olanda dal Belgio dall'Italia dalla Spagna dico io adesso mi fermo perché non ho la forza di continuare ed ero in testa e quell'attimo mi ha dato ancora la forza di continuare sono arrivato ho vinto però purtroppo sono caduto mi hanno fatto una flebo e poi mi portano dopo aver vinto però perché c'è una foto in cui ti portano via braccio perché non ce la facevi più non ce la facevo più di fatto mi ha fatto una flebo poi vado alla premiazione e c'è Kenny Roberts allora qui siccome ce l'avevo dico senti Kenny forse oggi hai capito chi è il campionato del mondo allora lì effettivamente però ha accettato addirittura ha detto tu non sei umano ah si? si è stato e beh lì non potevo ormai l'evidenza assolutamente senti ma il momento nella tua carriera quello la vera svolta una in positivo e una in negativo tu dici andavo più forte nel 1980 io l'anno che ho camminato più forte è stato l'80 che se ci metti la vigiera che mi si è panata in Olanda che mi sono dovuto ritirare se ci metti ero in prima posizione in Finlandia mi si è grippata davanti a Graziano Rosso ci metti tutte quelle che non ho finito ma non per colpa mia infatti la Suzuki l'hanno capito mi hanno rinnovato poi per l'81 nell'81 vinci il mondiale e poi quando decidi andare alla Honda decidi nonostante avessi un'offerta per andare in Yamaha da lui lui ci siamo incontrati mi ha fatto un'offerta sono sicuro che avrebbe se mi avessi ascoltato però perché testa dura lui si io quella non le ho mancato Gallina ci voleva Gallina di nuovo per cui talento talento ne aveva ne aveva di talento solo che però un simpatico pazzo mi piaceva quelle cose lì tipo Imola ventottesimo su ventotto e poi in gara ho vinto davanti a Uncini hai capito mi piacevano queste libidini facevi un danno al sabato e un recupero la domenica è che è meglio sempre la domenica perché se no anche mio figlio adesso che ha 13 anni l'ultimo glielo dico che a scuola non deve essere sempre davanti mi ha stare un po' dietro che così recuperi ogni tanto hai capito ma c'ho già nove ma è punto è sbagliato è sbagliato è sbagliato davvero io sei più bravo se recuperi Loris io faccio fatica ad immaginare che cosa ovviamente ma non credo solo io cosa voglia dire trovarsi a 17 anni appena compiuti perché nel mondiale del 90 tu hai incominciato che li stavi compiendo e dopo sei mesi a giocarti il campionato mondiale diventare il più giovane irridato della storia ancora oggi perché è un ricordo che resiste anche se per pochi giorni ma c'è ancora ma com'è stato? cioè è stato incredibile io non mi ricordo perfettamente come fosse oggi la notte prima a Filippa Island? la notte prima dell'ultima gara a Filippa Island che non ho dormito niente zero ero agitatissimo avevo paura sai sei un ragazzino ti trovi davanti la possibilità di raggiungere un sogno e avevo porre di sbagliare avevo porre di non riuscire a raggiungere quell'obiettivo invece devo dire che in quell'occasione ho avuto anche un aiuto importante dagli italiani dal mio compagno di squadra Gram al primo giro eravamo in tre che giocavamo al mondiale io Hans Pan e Stefan Prenn Gram al primo giro dà una legnata a Prenn gli spacca la leva del cambio e uno fuori uno fia quindi avevo rimasto solo solo spam per giocarmi con lui grazie Gram grazie Gram e Gresini è stato molto bravo perché è stato in quel momento è stato un grande compagno di squadra ma anche Romboni e Casanova mi hanno anche dato una mano però è stato quando ho tagliato il traguardo ma secondo me ancora oggi non mi rendo realmente conto di quello che fece all'epoca però è stato un super bel momento e poi dicevi è facile adesso dire se è ancora il più giovane campionato del mondo il perché ve lo dico io è molto semplice siccome adesso sono il mio ruolo all'interno dell'organizzazione ho cambiato le regole 18 anni l'età minima quindi non me lo frega più nessuno ci sono due cose che mi hanno sempre incuriosito uno il fatto che tu sei andato in 500 abbastanza presto ma poi sei tornato in 250 e poi l'avventura con la Ducati che entrava nella MotoGP senza avere mai corso nel moto mondiale dei prototipi fino a quel momento il passaggio il tornare indietro dalla 500 alla fine di un campionato nel quale poi mi avevi vinto anche una gara alla fine di quell'anno come era stato come era nata la decisione di accettare di fare un passo indietro per poi ripartire era nata perché in 250 io ci sono arrivato sempre molto vicino a vincere un titolo beh diciamo che ne ho buttati via tanti perché nel 93 l'ho buttato via nel 94 l'ho buttato via e quindi poi il team mi ha spinto ad andare in 500 quindi ero giovanissimo ma l'idea di andare su una 500 mi piaceva moltissimo poi da Londra sono passato in Yamaha in 500 ho vinto l'ultima gara e poi all'epoca che Aprilia era molto forte in 250 e mi fece un'offerta interessante per tornare indietro e decisi di tornare indietro non era una sconfitta volevo cercare di vincere questo titolo in 250 il primo anno in 250 del mio ritorno un disastro un anno che volevo smettere di correre alla fine dell'anno la moto si rompeva un casino e l'anno successivo cambiai squadra sempre con Aprilia e ho vinto un altro titolo in 250 e poi di nuovo il passato in 500 e poi arriva l'offerta di Ducati Ducati era una squadra fortissima a livello superbike ma era il primo rientro diciamo in MotoGP io andai a Borgo Panigale a parlare con gli ingegneri dell'epoca il progetto mi piaceva molto e fui abbastanza coraggioso perché non è che contattarono solo me parlarono con viaggi parlarono con tanti piloti dell'epoca e io dissi ok proviamoci è stata una scommessa tutto sommato anche vincente perché noi alla prima nostra stagione ho vinto una gara ho fatto un sacco di podi la prima gara ho fatto terzo è stato un anno fighissimo è stata una parte della mia carriera molto molto importante con Ducati è stata la vittoria più bella quella lì del 2003 a Barcellona la prima con Ducati è stata una secondo me non la vittoria più bella ma è stata è molto emozionante perché sai il rientro vincere davanti a potenze come Honda Yamaha noi più piccoli da Borgo Panigale è stata fighissima però io dico che ogni vittoria ha un suo perché e non ne ho una realmente più bella o più brutta sono tutte bellissime ho dei ricordi belli di tutte tra l'inizio della tua carriera in cui tu eri il giovane che stava arrivando e la fine per esempio quando quello che stava arrivando era Lucchinelli è cambiato qualcosa nel modo in cui tu guardavi ai tuoi avversari oppure ti sei sempre sentito assolutamente io non ho mai sottovalutato cioè io sempre ho sempre anche quando ho vinto il mio primo titolo mondiale la prima gara e dico non è perché io adesso sono cambiato nel mondo io sono io il più bravo eccetera io ho sempre ho sempre temuto che ci fosse qualcuno magari bravo come me o forse magari più quindi io mi sono sempre preparato come fosse come fosse la cosa nuova la prima gara eccetera non ho mai pensato di qua perché io vinco sono sì certo d'altro invece vabbè sono bravo mi facevo i complimenti da solo però però dico ho sempre temuto l'avversario infatti mi sono sempre preparato al massimo perché sapevo che bastava una piccola cosa per perdere io ho dei ricordi bellissimi quante gare madonna poi e poi se vogliamo essere onesti perché io non mi vergogno mica dirlo mi hanno suonato di più di quelle che ho suonato io agli altri però ho vinto un sacco di gare mi sono divertito alla fine va bene tutte le volte che entri in pista hai un rispetto verso il tuo avversario perché sai che comunque fai uno sport pericoloso e quindi tante volte sei sul rettilineo a 300 300 all'ora a due centimetri dal tuo avversario e se lui fa qualcosa di sbagliato diventa molto pericoloso quindi c'è tanto rispetto però alla fine però quando arrivi staccata rispetto l'ordineo io mi ricordo un'altra volta che io guardavo tantissime gare vecchie e Nieto era un mago faceva una mossa fighissima lui arrivava a manetta in frenata lui si tirava su e non chiudeva il gas non chiudeva il gas un altro mito del motociclismo Carlos Lavado io avevo una moto un po' più marcia della sua e arriviamo a Hockenheim l'ultimo giro prima di entrare al motodrome io mi sono alzato in pieno e lui ha detto lo passo con una mano e lui non ha frenato si è piantato nella via di fuga e me lo racconta tutte le volte che ci vediamo Carlos mi racconta Lavado quando è arrivato è arrivato in Europa si siamo conosciuti in Inghilterra andiamo a fare la gara di mondiale alle Manse sai che dopo c'era il salto come si chiama Ponte d'Almo Ponte d'Almo che c'è ancora e poi c'era la curvata e è stato l'incidente Terezzani ecco Lavado era la prima volta che veniva non ha voltato a destra è andato dritto praticamente è sparito non si trova più Lavado ci avrà messo 40 minuti è andato dove fanno la 24 ore con le macchine c'è un rettilineo di 4 km è arrivato e c'è il riccio ma buon madre era così un altro un po' come te è matto anche lui ma ce l'ho a mano tutti i giorni io ce l'ho a mano suo fratello che è un personaggio di una bellezza suo fratello è unico da film va in aereo finisce la benzina va giù in un campo di Gran Turco la rifa e viene via è un personaggio vero ma davvero non scherzo e poi ce l'ho Lavado io ce l'ho il mio girettino non ce n'è uno normale non ce n'è uno Faustino ce n'è uno normale ma non è nessuno normale è la passione è la passione ma te Giacomo sei normale? no no Giacomo si dice no 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 non siamo mica normali noi non siamo normalissimi dicono che non siamo normali perché andiamo facevamo delle cose in moto che effettivamente uno pensava abbiamo un pizzico di passione infatti io quando poi abitavo ancora sul lago di Zeo così che facevo mi allenavo nella riviera del lago di Zeo e dicevo è passato il matto però io dicevo i matti però non riescono a vincere tanto esatto va bene sentite io una cosa vi vorrei chiedere siccome siete stati campioni del mondo piloti sportivi di grande successo allora in epoche diverse ma tu hai fatto film caroselli fotoromanzi ero un vigo Giacomo infatti ma c'erano dei vantaggi non c'erano dei vantaggi non c'erano dei vantaggi che lui non voleva lavorare io lavoravo noi lo odiavamo per quello noi lo odiavamo per quello noi avevamo il Fiat Daily e lui arrivava col Jaguar e magari qualche gnocca anche attaccato no perché mi sa che qualche come dire vantaggio collaterale c'era no? sbaglio io ti ho sentito parlare di feste con Alain Delon Carlos Monzon cioè beh insomma cioè ci stava bene allora c'è questo che di inverno noi non provevamo non avevamo circa tre mesi liberi quindi mi proponevano di fare cose caroselli giocare a nascondino cose eccetera ma mi ricordo mi ricordo uno dei miei primi fotoromanzi ho fatto fare una parte di un fotoromanzo con Mal no no con Mal ho fatto un film no il fotoromanzo e niente c'era una c'era una questa ragazza che io dovevo dire che che la amavo che le volevo bene eccetera solamente che era alto un metro e ottantacinque io ci arrivavo ci arrivavo al seno nemmeno e quindi dovevo darle anche un bacio quindi mi hanno portato una cassetta delle mele e mi sono messo a pari e dovevo e dovevo dire e devo prenderle e dire prima di darle il bacio beh io ti amo ti voglio bene mi viene da ridere perché non essendo attore ma essendo motociclista dicevo ma non è vero che io le voglio bene e che la amo quindi mi viene da ridere raccontare raccontare la bugia capito e poi pian piano però ho imparato che qualche bugia dovevo raccontarla insomma è dura prendere la decisione di smettere quando lo fai anche se hai corso per 25 anni senti che vorresti andare avanti a correre per altri 25 ma arriva sempre nella carriera di uno sportivo il giorno in cui dire basta è il momento più triste e difficile nella vita di un campione perché niente sarà più come prima l'idea di rinunciare alla velocità alla sfida alla tensione quando gli occhi sono puntati sul semaforo e il rumore del motore sale alle stelle è tremenda perché correre è emozione soddisfazione correre è speciale per questo dire basta non è mai una decisione facile ma in tutti gli sport sono i risultati a fare la differenza e arriva un giorno in cui i risultati non sono più quelli che vorresti quelli a cui eri abituato tutto si fa più complicato e fatichi a capire il perché ma lo vedi che è così e devi fartene una ragione sul momento è dura molto dura ma poi col passare degli anni ti accorgi che gare o non gare in fondo non si smette mai di essere un pilota è così no? è veramente così voi oggi in moto ci andate ancora Giacomo tu sei io vado tutti i giorni ancora però è vero cioè è molto difficile dire basta dire basta perché innanzitutto perché parlo del caso mio ma credo anche il loro cioè è un amore che hai è l'amore della tua vita tu nasci e incominci a pensare e incominci a pensare se nasci anche altre cose pensavo no no te lo volevo dire ogni tanto sì mentre crescevo però insomma nasci e pensi a questo poi riesci ad avere successo e poi un giorno devi dire basta quando sei ancora giovane quando dici basta perché sono vecchio sono vecchio per questo per fare questo mestiere quindi quindi devi dire basta quando appunto dicono o dici sei vecchio ma in fondo hai 35 o 36 o 37 anni insomma quindi ed è difficile è difficile perché pensi che quello che hai avuto non riuscirei mai a averlo più e questo è vero perché pensavo pensavo anche ai miei tempi dicevo ma se mi riesci a dire perfetto tu smetti di correre diventi presidente della repubblica una grande carica un grande onore eccetera però non avresti le gioie che non avrei le gioie che ho avuto correndo in moto sei presidente hai tutto però mille problemi la cosa la politica eccetera e invece invece le vittorie quindi ti danno una gioia incredibile quindi anche per me è stato difficile quando ho deciso di smettere è stata dura è stata dura e dirò che non vi vergogno di dirlo ho piatto anche per due o tre giorni qualche lacrima e dici basta è finito tutto c'è che pensi che non ci sia più niente dopo quello che hai avuto tutto il resto non vale più quello che tu hai avuto quindi pensi che poi invece devi essere devi usare la testa pensare e capire che la vita continua che poi hai altre gioie mai come quelle mai come quelle che ho avuto nella mia carriera però insomma quanti anni hai smesso a quanti anni 37 tra l'altro non andavi ancora fermo fermo perché nel 76 hai fatto terzo 77 hai trovato un cartello però sai cos'è che non allora abituato a vincere tutte le domeniche quindi è una bella abitudine un bel vizio una bella però quando incominci a perdere qualcosa io dico beh prima vincevo 12 gare all'anno adesso ne vinco solamente 5 vuol dire che non sono più come prima quindi devi avere il coraggio di dire basta è arrivato il mio momento do il mio posto a un ragazzo giovane che aspetta e vuol fare la mia stessa la mia stessa la mia stessa carriera insomma come è stato smettere per voi cioè è stato un momento io io facevo la superbike avevo già smesso 500 Castiglioni e Gianfranco a un certo punto mi ha detto Lucchina è troppo pericoloso correre in moto c'hai due figli fa il manager della Ducati in superbike ti do i soliti i soldi del pilota e ho fatto il manager ho vinto anche il mondiale nel 90 e l'ho rivinto anche nel 91 poi non si è saputo perché ho avuto delle incidenti di percorso nel frattempo sì sì e beh frena 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 poi cerca cerca guai li trovi Loris la mia è stata abbastanza più semplice perché io ho deciso nel 2011 ad Assen quando durante le prove ufficiali la mia Ducati ha ben deciso di lanciarmi in una curva da quinta e io ero schiacciato sotto la moto e lì ho detto forse è ora di smettere e lì ho deciso di dire basta però il momento più difficile quell'anno è stato un anno terribile per quello che è successo alla penultima gara con Marco e il difficile è stato 2012 alla prima gara quando è partito e io non c'ero e lì devo dire che ho un pochino accusato e poi ho scoperto la vita ho scoperto mi sto godendo la mia famiglia mi sto godendo i miei amici la vita è una figata stai ancora lavorando parecchio però mi diverto ha fatto una macchina che ha 1.280 cavalli furia quando non sa cosa fare beh insomma allora sicuramente io vi dico ascoltare quello che avete detto quello che avete raccontato mi fa pensare che per diventare dei grandi campioni non soltanto nel motociclismo in qualsiasi sport sicuramente il talento serve la passione fondamentale fortuna fortuna tanto lavoro poi magari qualcuno adesso tu dicevi lui era molto fortuna meno voglia di lavorare forse però il cocktail di queste cose è sicuramente fondamentale e senza la passione voi oggi non sareste tanti anni dopo aver smesso di correre ancora come siete credo e non sareste nemmeno penso così tanto nel cuore degli appassionati il talento è nascere fai delle cose che gli altri non riescono a fare ma che a te vengono naturali certo ma guarda quello che dice Giacomo adesso in qualche occasione mi è capitato di vincere le gare e mi chiedevo ma perché gli altri vanno così piano no ma non per perché ci sono dei momenti che nella tua carriera ti viene tutto facile tutto facile e poi quando ci riprovi non ce la vai più è una roba incredibile grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti